Lo scavo condotto tra il 2003 e il 2008 da Enzo Lippolis, recentemente pubblicato insieme a Chiara Giatti, si è interessato dall'area settentrionale del pretorio, in una zona particolarmente importante per la comprensione della topografia di questo settore della città. La recente pubblicazione dello scavo è stata l'occasione di un ripensamento più generale dell'impianto urbano di Gortina, anche grazie al lavoro di Alessandro Iaia che ne ha proposto una nuova analisi. Ne è emersa una lettura complessiva della città di Gortina che è partita dall'esperienza di lavoro che Enzo Lippolis aveva maturato all'interno di quell'importante laboratorio di archeologia che era stato lo scavo sotto la direzione di Antonino Di Vita e i lavori per la conseguente pubblicazione di Gortina V. Lo scavo e lo studio del tempo ellenistico sono stati anche la base documentaria per una rilettura delle cronologie, soprattutto per quanto riguarda le ultime fasi, che diventano ora più chiare per i secoli finali di vita della città. Il risultato si pone dunque su due livelli, quello dello scavo e quello della storia urbana di Gortina, che viene letta alla luce delle nuove acquisizioni. Al momento dell'inizio dello scavo, le conoscenze su quest'area erano limitate a una serie di saggi compiuti da Colini e un'analisi sommaria a firma di vita. Erano visibili lacerti di muri dell'acquedotto bizantino e nel lato orientale il Ninfeo. La strategia muraria era piuttosto complessa e il numero di edifici che si sono succeduti in sequenza su una stessa area ancora non ben definito. Le prime campagne di scavo hanno messo in evidenza le strutture del tempio al negativo. Si sono individuate le trincee di spogliazione, eseguite probabilmente in tempi recenti, quando l'intera storia edilizia del settore si è ormai conclusa. Solo una parte del lato occidentale conservava ancora i blocchi originali dell'edificio, mentre la fronte era stata profondamente rimaneggiata in epoche successive. Lo scavo dell'isolato ha permesso non solo di determinare con maggiore consapevolezza il sistema, il senso e il significato dello spazio urbano dell'area, ma anche di precisarne lo sviluppo cronologico e le fasi di monumentalizzazione, che rispecchiano i diversi sistemi sociali che di volta in volta gestiscono la vita comunitaria e architettonica della città. La storia dell'area inizia in età ellenistica con la costruzione del tempio che demarca la cesura tra la zona urbana, il santuario arcaico di Apollo Pizio e gli spazi pubblici della città. Il tempio segna, inoltre, sin da subito il passaggio dei due assi viari che rientrano l'impegno monumentale delle fasi successive e rendono l'incrocio uno dei luoghi della città dove è ancora possibile leggere un'importante sequenza costruttiva dall'alto impatto visivo. Una serie di indizi hanno fatto propendere per una dedica del tempio alle ninfe e questo potrebbe essere già segno di un rapporto privilegiato dell'area con le acque, rapporto che è possibile eseguire con più compiutezza solo dalle tempi ariane. In questa fase, il livello leggermente elevato sulle pendici della collina doveva porre il nuovo tempio in una posizione di alta visibilità dalla piana che accoglieva lo stadio. In questa alcuni indizi hanno fatto supporre la presenza di corsi d'acqua stagionali e ruscellamenti dovuti alla precipitazione atmosferiche che dovevano caratterizzare fortemente il paesaggio del quartiere. A questo periodo si può iscrivere la prima fase del tempio, riconoscibile solo in pochi lacerti di strutture della cella e negli scarni resti della pavimentazione. Mancano completamente gli elementi di alzato, le strutture originali del pronao, di cui i dati di scavo indicano rifacimenti in un momento successivo. Una fistula plumbea, databile in quest'epoca, documenta già per l'età lenistica una risposta al problema dell'adduzione dell'acqua, che trova conferma anche nella zona del Lago La, dove la presenza di condotti fognari, databili a partire dall'inizio del III secolo, sembra testimoniare una gestione idrica complessa che si pone in rapporto con il fiume Mitropolianos e che testimonia la necessità di un sistema di adduzione e di deflusso proprio ed eutico all'urbanizzazione di questi settori della città. Un secondo periodo comprende un arco cronologico che include tutta l'età imperiale fino al 360 circa. La storia architettonica dell'area in questa fase, pur se con alcune cesure di pensamenti, sembra mantenere l'esigenza di monumentalità perseguita con la costruzione del tempio. Rimane inoltre quel rapporto costante con il sistema di adduzione dell'acqua nel quartiere, che trova qui un punto di forte visibilità attraverso la costruzione di edifici che sottolineano l'importanza, anche energetica, delle opere idrauliche. Il periodo imperiale inizia con una totale riorganizzazione dell'area sotto il principale rio Augusto. Viene così realizzato il ginnasio, che occupa una superficie non inferiore a 4.500 metri quadri a sud dell'isolato dell'infeo, e che costituisce un po' l'architettonico importante. Il cantiere rende necessario un livellamento che trasforma le quote di tal pestio dell'area e interra in parte lo stadio. La ristrutturazione di questa fase interessa anche il tempio, che è ricostruito soprattutto nella parte anteriore, e che è possibile vedere nella ricostruzione di Monica Livadiotti e Giorgio Rocco. Si tratta di una struttura sul polio, con sei semicolonne ioniche, che inquadrano la porta e due finestre. L'interno ha pronao e cella, nella quale è ancora possibile vedere i resti del polio, dove dovevano prendere posto le state di culto. Questo, molto ampio, largo circa 6 metri, doveva accogliere più sculture, come si addice a un culto di un gruppo funzionale, come quello delle ninfe. Queste potrebbero essere identificate con le ninfe Grastaites, attestate da fonti epigrafiche argotina che avrebbero allevato Zeus e bambino, e non escluso che lo stesso Zeus potesse far parte del gruppo scultore. Un disco fittile con divinità femminile del tipo delle Carites, o una stato femminile del tipo di Venere marina rinvenuto nell'area del Tempio, possono richiamare l'iconografia del gruppo di culto. Pur essendo stato messo in opera in età proto-imperiale, l'edificio si inserisce in una tradizione ellenistica portata avanti da maestanze locali, con influssi microesaltici e alessandrini. Come notato da Monica Livadiotti, la facciata con porte a finestre richiama alcuni prospetti noti nelle tombe macedoni, e più in generale alcuni elementi architettonici rimandano a modelli alessandrini diffusi a Creta e a Gortina, nella ristrutturazione del Pichon, a Festosse o a Littos, per richiamare infine la tomba di Mustafà Pascià d'Alessandria, o architetture cirenaiche. La ricostruzione del Tempio in età imperiale richiama a modi barocchi di un alessandrinismo diffuso, che testimonia però l'esito ultimo di una tradizione alessandrina sull'isola, e in particolare a Gortina. Sabone ci informa infatti della partecipazione di Ptolomeo Filopator, un nuovo progetto di definizione urbana della città e alla realizzazione della nuova cinta muraria, mentre nel 163 a.C. Ptolomeo V Filometor inviò truppe egiziane in soccorso della comunità. A Gortina, in particolare, la definizione di un'immagine alessandrina passa attraverso monumenti importanti, quale il santuario delle dirità egizie, fondato probabilmente nella prima metà del II secolo a.C., e che rimane un luogo di culto, di rilievo per tutto il periodo imperiale, fino a subire una ristrutturazione in età traianea. Oppure lo stadio, realizzato tra la seconda metà del II secolo a.C. e la prima metà del successivo. L'edificio, scavata da Enzo Lippolis, con analemma tra costruiti e passaggi voltati, riprende alcune soluzioni già messe in opera nella realizzazione delle posterule delle mura, ed è progettata in modo sperimentale con spalti completamente realizzati in muratura. D'altra parte, creta ellenistica è imbevuta di cultura egiziana, non solo nell'ambito delle strutture architettoniche, ma anche negli aspetti sociali, nella presenza di soldati, nelle organizzazioni di fruria e stazioni militari, che in questa fase si integra anche con la presenza di talici, sia mercanti che mercenari. La presenza di un culto alla tiche protogenei attestata da fonti epigrafiche, e che chiaramente lega il culto alessandrino alla fortuna primigenia di Preneste, offre un'idea del sincretismo culturale che vive l'isola tra Oriente e Occidente. Lo scavo e lo studio del Tempio hanno aggiunto dunque un tassello importante nella definizione del sistema culturale cretese in età tardioellenistica, e in particolare a Gortina, dove per gran parte del periodo imperiale, il Tempio ellenistico, insieme al Tempio di Apollo, rimangono due marcatori importanti della geografia religiosa del quartiere. La definizione dello spazio monumentale dell'incrocio continua nel II secolo d.C., quando, probabilmente in Etterianea, il paesaggio architettonico dell'area è completato con la realizzazione di un saccello, forse da identificare nel compitum ricordato da un'epigrafe latina. La decorazione riprende nuovamente motivi alessandrini già impiegati nel Tempio Maggiore, di cui si propone come pandan. La stessa epigrafe cita la pavimentazione della strada con l'astre di calcare bianco, che deve essere stata realizzata poco dopo il saccello, in età Antonina. Questo edificio, probabilmente dedicato al culto imperiale, ha restituito e riempiegato nelle murature di una struttura più tarda la statua del cosiddetto riano giovane. Le figure di Tocati e di Pagliati rinvenuti nell'area potrebbero costituire una conferma di tale interpretazione. La seconda metà del II secolo si contraddistingue per pochi interventi. La prima metà del IV secolo si propone come un momento di importanti cambiamenti. Tutta l'area adiacente alla strada 1 appresenta una serie di indizi che indicano diffusi danneggiamenti alle strutture. Probabilmente in questa fase il Tempio è già stato abbandonato, mentre l'episodio è più rappresentativo e con certezza la realizzazione del grande ninfè monumentale. Questa nuova sistemazione cambia completamente il prospetto della strada, che è interessata da una monumentalizzazione ad alto intatto scenografico. Oltre alla realizzazione dell'infermo monumentale, la complessa stratigrafia dell'area ha permesso di riconoscere le fondazioni dei pilastri di un arco a pianta trapezionale, che dovrà segnare l'innesto della strada nord e sud sulla grande brateglia. Tal edificio era forse in connessione con una serie di modifiche che si possono rintracciare nelle architetture idriche dell'incrocio, quali l'innaziamento dello specco del caputacco orientale e la costruzione di nuove canalizzazioni che dovevano collegarsi al collettore centrale. I cambiamenti che l'isolato subisce in questa fase riflettono soprattutto un profondo mutamento culturale nella visione della città, con una maggiore attenzione allo sviluppo di edifici di rappresentanza legati al sistema di approvvigionamento idrico e una progressiva cancellazione dell'apparato pubblico connesso al culto politeista. Il processo di trasformazione prosegue nella seconda metà del IV secolo. La costruzione del pretorio negli anni Sessanta del secolo da parte di Fortuna Azziano e la successiva riorganizzazione della sua facciata con colonne scritte da parte di Cumenio Dositero Sclepidoto, consularis della provincia del 382, ne costituiscono le principali testimonianze. Questo intervento si difette profondamente sull'isolato dell'infero e interessa principalmente il Tempio, che in quest'epoca sembra essere stato trasformato in Scrimion, un edificio amministrativo la cui funzione è estremamente legata alla basilica del pretorio. I cambiamenti registrabili nel quartiere riflettono un indirizzo più generale che cambia il volto dell'intera città attraverso la progressiva e sistematica cancellazione degli edifici pagani e la loro sostituzione con architetture consone al nuovo sviluppo urbano. La sistemazione dell'area del Tempio avviene con un dispendio minimo di risorse. Le strutture portanti del vecchio edificio sono mantenute e ospitano ora l'aula centrale e l'aula occidentale dello Scrimion, quest'ultima suddivisa in tre ambienti. L'area orientale, anch'essa ripartita, viene invece realizzata nello spazio precedentemente occupato dalle cisterne dell'infero. A sud del nuovo edificio è realizzato un portico che invade il marciapiede della strada e ne costituisce la fronte monumentale. Di fronte al portico, presso le colonne, base scritte con dediche di cui l'età bizantina, tra il 500 e la fine del VII secolo, mantiene quanto realizzato durante il IV secolo. In questo periodo, gli edifici amministrativi del Praetorion e dello Scrimion continuano a vivere come strutture funzionali e rappresentative della città. Nella parte iniziale della fase si assiste alla necessità di rinnovare alcune infrastrutture urbane e ancora una volta quelle idriche. Diverse iscrizioni riportano di lavori sull'acquedotto e in relazione alla gestione delle acque. In particolare, quella posta sul parapetto dell'Infeo dopo la sua trasformazione in cisterna richiama la figura di un certo Giorgio che tra l'ultimo venticinquennio del V e l'inizio del VI avrebbe contribuito a rinnovare la città che prima soffriva la sete. Il testo potrebbe segnalare uno degli interventi connessi all'opera più significativa delle fasi tarde, il nuovo acquedotto urbano, realizzato in gran parte sul tracciato del precedente, un'opera monumentale costruita ex novo che rappresenta l'esito finale di uno sforzo collettivo. Nello stesso periodo, il Linfeo viene ristrutturato e riorganizzato con una cisterna che occupa la vasca originaria. L'impegno economico e tecnologico importante, che non si limita solo alla conduttura principale, ma comprende anche tutte le strutture di supporto e di raccolta delle acque realizzate lungo il suo percorso, testimonia la grande vitalità della città nella seconda metà del V e all'inizio del VI secolo. Nell'area dell'incrocio, la costruzione dei piloni del nuovo acquedotto realizzati utilizzando le strutture superstiti del sacello compitum, indica come quest'ultimo dovrebbe essere ancora visibile sino al momento del suo riutilizzo. Durante il VII secolo, infine, l'ingresso del pretorio, precedentemente rivolto verso il Pition, viene aperto in direzione dello Scrinion, testimoniando così la nuova centralità della strada e lo stesso rapporto tra i due isolati, del pretorio e dell'Infeo. Questo intervento costruttivo, che sembra attribuibile all'età di Eraclio, si concentra quindi esclusivamente sulla grande aula giudiziaria, che viene riprovimentata e arredata nella forma restituita dallo scavo. È solo a partire dall'ultima parte del periodo, dal 650 circa, che era visabile l'inizio di un processo di destrutturazione degli edifici pubblici, evidente anche in una carenza di manutenzione delle installazioni idriche. Il collettore fognario centrale della strada non viene più utilizzato e di necessità sono realizzate canalizzazioni suppletive che corrono ai lati della sedeviaria. Ciò dimostra comunque il fatto che Gortina ha ancora la possibilità amministrativa di gestire gli spazi comuni, come le strade e le fogne, anche se con difficoltà logistiche sempre maggiori. Nella stessa fase, la pavimentazione originaria della strada in Vasoli viene progressivamente smantellata. A nord dell'arco su Pilassi, infatti, una gettata di malta con inclusi ceramici e lapidei costituisce un nuovo grossolano fondo stradale. Probabilmente sempre in questo periodo si data tutta una serie di interventi strutturali nello Scrinion, che tuttavia non ne alterano le funzioni amministrative. La fine del VII secolo e l'VIII secolo costituiscono un momento di crisi delle strutture urbane e amministrative, con un rapido incremento del processo di destrutturazione già iniziato nella fase precedente. Un grave evento destruttivo, già attribuito agli anni intorno al 670 e ora collocabile invece entro la prima metà dell'VIII secolo, segna una netta cesura, determinando crolli diffusi e l'abbandono delle sedi statali imperiali. Con l'VIII secolo, quindi, nella città cessano le testimonianze di interventi pubblici e l'abitato si riduce agli spazi prossimi alle strade, con piccole abitazioni private e strutture per la lavorazione delle derrate alimentari. Le strade che afferiscono all'incrocio presentano ancora successive stesure di livelli movimentali, databili tra la fine dell'VIII secolo e la conquista araba, che innalzano progressivamente il piano di Calpestio. L'isolato dell'Infeo subisce alcune trasformazioni importanti che rispecchiano cambiamenti sociali e amministrativi della città. Lo scavo ha messo in evidenza strade di abbandono e crolli delle strutture monumentali pubbliche e un successivo riuso parziale delle stesse aree. Lo spazio già occupato dallo Scrinion, ora ridotto quasi allo strato di Ludere, viene utilizzato per ospitare strutture produttive, agricole e vani abitativi. Sono cambiati gli accessi e le stanze ricavate all'interno della zona prima occupata dal portico presentano colonna addossata ai lati degli ambienti a formare banchine. Il nuovo ingresso è aperto a una quota più alta rispetto al precedente, testimoniando così anche rapido innalzamento del battuto stradale. La stessa area dell'incrocio viene interessata in maniera sostanziale da profondi cambiamenti. Gli acquedotti e le strutture idrauliche di smaltimento dell'acqua sono ora parzialmente demolite. Per questo è necessario costruire una serie di cisterne nell'area del sacello compitum, che forniscono una riserva d'acqua per la piccola comunità installatasi tra l'acquedotto, le cui arcate sono ora chiuse da muri costituenti limite a ovest dell'abitato e l'area del tempio. A sud sono costruite nuove vasche e impianti artigianali che si susseguono rapidamente nel tempo, in una serie di sottofasi di non facile comprensione. Nell'angolo nord-est dell'incrocio si costruisce una piccola cappella, con un'area previmentata che funge da sagrato. Insieme alla cappella, posta a sud della strada, essa doveva comunque assolvere il compito di sagralizzazione del luogo d'incontro presso le due importanti arterie. A questo punto il processo di disgregazione della città è ormai compiuto. La comunità sopravvive sulle macerie degli edifici più antichi e ne utilizza i resti per realizzare nuove e più semplici architetture. Iscrizioni, statue, elementi decorativi sono utilizzati sempre più frequentemente nelle murature, come materiale da costruzione o abbandonate nella posizione di caduta. Anche l'accesso al piccolo pronaro della cappella è realizzato con antiche basi scritte, capovolte, mentre per il sagrato vengono utilizzati i basoli della pavimentazione stradale di età imperiale, ora riposizionati a un livello più alto. Pochi invece sono i resti dopo l'abbandono, a seguito dell'arrivo degli arabi. Nell'area dell'isolato del Ninfeo e del Caputacque, stati sporadici attestano qualche continuità. Ciò si osserva in particolare nel settore a ovest dell'acquedotto bizantino, dove i livelli di calpestio sono almeno un metro più alti rispetto all'area orientale, testimoniando una frequentazione al di sopra delle rovine di età precedente. Nella parte occidentale invece i crolli sembrano essere rimasti in vista e sono diffusi in tutta la zona dell'incrocio. Le installazioni produttive ricavate nell'area dello schinio non vengono invece definitivamente abbandonate. L'accesso all'edificio è chiuso con una tamponatura che risulta ad un'altezza superiore rispetto ai livelli di calpestio della strada. In genere tuttavia si nota un aumento generale degli stati di sedimentazione naturale di accumulo. Crolli si rilevano anche nell'area est del Tempio e la canalizzazione a nord della strada viene definitivamente chiusa. La storia dell'isolato termina con le spogliazioni d'età moderna, nei decenni finali dell'Ottocento. In questa fase vengono scavate le grandi trincee di spogliazioni che determinano la depredazione finale delle strutture in opera quadrata del Tempio e si collocano le tracce del cantiere di spoglio riconosciuto nello scavo, ultima operazione prima dell'inizio della riscoperta archeologica. Il lavoro di scavo e di studio dell'area dell'incrocio ha costituito un importante momento di riflessione sulla città di Gordina e sulle sue fasi urbane ed è stato anche una palestra importante per chi ha avuto la fortuna di parteciparvi insieme ad un amico e un maestro come Enzo Lippolis.